Mario Balotelli lo sappiamo è un personaggio sui generi, sei uno che ti risolve le partite e il Milan questo lo sa, ma le sue balotellate all'Inter e al Manchester City sono passate alla storia nessuno lo vuole ma alla fine tutti lo prendono come dimostrato dal club di Milanello che ha messo a segno il suo colpo di mercato poco prima delle elezioni politiche le famose balotellate nel bene o nel male lo hanno reso famoso e il Time, lo storico news magazine statunitense ha deciso di premiarlo inserendolo tra i 100 personaggi più influenti del mondo nella 2012 Super Mario il 23 aprile volerà quindi a New York e rappresenterà l'Italia insieme a Mario Draghi sì lui il presidente della BCE la lista degli invitati vantano miei eccellenti da Barack Obama a Papa Francesco e Balotelli che ha parlato tanto di razzismo e della sua grande voglia di giocare a calcio ora potrà coronare anche il suo sogno di conoscere personalmente la presidente americana, la First Lady Michelle ad accompagnare l'attaccante milanista ci sarà il suo agente Mino Rayola che ha ricevuto nel suo ufficio la comunicazione ufficiale dell'invito all'evento nella grande mela ci saranno i protagonisti dello sport dalle Bron James all'Inseivon ma la giocatore Bresciano con le sue uscite la Glamour acquisito nell'ultimo anno con tanto di orecchini e di diamanti invece è stato incluso dal settimanale pensate un po' nella categoria icone il Time ha preso a cuore Super Mario tanto da dedicargli una covertina lo scorso novembre uno spazio riservato anche alla Nazionale Azzurra campione del mondo in Germania a Luciano Pavarotti e l'ex Premier Silvio Berlusconi ma quella probabilmente era un'altra storia ma quella probabilmente era un'altra storia la città